Adesso andiamo a dirlo, intendiamo muoverci innanzitutto nel 2014 proprio grazie al protocollo di Milano, partendo dal presupposto che il tema del cibo, il tema dell'acqua è uno dei temi fondamentali ed è importante che si comprenda per esempio che quando si mangia un chilo di carne 15.000 litri di acqua se ne vanno e che quello che noi vogliamo essere come persone consapevoli e responsabili della vita del pianeta impone a tutti noi una conoscenza che non c'è. Quali le adessioni illustri finora? Innanzitutto le due figure che mi accompagneranno durante questa presentazione che sono Ilaria Borletti Buitoni, attuale sottosegretario ai beni culturali ma soprattutto per la sua storia cioè per la presenza che lei ha avuto forte nell'ambito del FAI relativamente alla bellezza. Ecco, dobbiamo nutrirci e fa parte delle nutrizioni di cui parleremo nel corso di questi prossimi mesi e anni della bellezza per esempio come componente di una ricchezza umana e di una ricchezza sociale di cui non si parla abbastanza. Il degrado è un degrado ambientale ed è un degrado culturale ma diventa purtroppo anche un degrado una diminuzione della capacità psichica dell'individuo e della capacità di socializzare dell'individuo se non si valuta opportunamente dove si vive e come si vive il valore del paesaggio il valore della nostra storia.